Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, il video di oggi è un approfondimento per la parte della relazione degli affetti della lettura generale per l'oroscopo del prossimo semestre. Questa lettura è già online, la trovate nella playlist nella sezione dell'oroscopo annuale e stagionale. È quella con la copertina azzurra. Prima di iniziare io intanto vi comunico che dalla data di pubblicazione del video fino al 31 luglio è attiva la promozione per la lettura semestrale. Se volete avere maggiori informazioni mi potete contattare a questo indrizzo email. Io intanto vi ricordo anche che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente segno lunare o venere e se non sapete come unire questi oroscopi sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega proprio come unire questi oroscopi. Allora partiamo da un 7 di bastoni, dal cavaliere di bastoni al contrario, un 5 di bastoni, un 4 di pentacoli e un 10 di pentacoli ragazzi. Allora partiamo con questo 7 di bastoni. 7 di bastoni è sempre una carta che parla di qualcuno che si sta difendendo, che sta portando avanti i propri ideali, le proprie idee da solo in realtà. È proprio la carta della lotta solitaria. E vedendo anche questo 5 di bastoni, che è comunque una carta di conflitti, è una carta di competizione, di discussioni, di cose che non sono proprio lineari, ho la sensazione che ci sarà un po' di maretta, di mare agitato nel settore delle relazioni e degli affetti. Allora diciamo che molto potrebbe essere a livello familiare, sia che abbiate voi creato una famiglia, sia per quello che riguarda la famiglia di origine. Vi dirò ragazzi, in realtà nonostante tutto, nonostante tutte queste discussioni, queste possibili, magari non sono discussioni, sono solo disaccordi, perché comunque è un 5 di bastoni, non è un 5 di spade, quindi sono cose comunque di poco conto, magari ripetute nel tempo, però comunque sono cose abbastanza poco importanti. Nonostante tutto, vi dicevo, alla fine avete un bellissimo 10 di pentacoli, che è una carta che parla di compimenti, di risultati raggiunti, di unione e stabilità familiare. È anche una carta che parla di contratti, quindi è qualcosa di solido, rappresenta qualcosa di un gruppo, ma ben solido. Bene, andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo dal 7 di bastoni. Abbiamo un fante di spade e un cavaliere di spade. Allora, queste due figure potrebbero essere le persone verso le quali vi state difendendo, quindi eventualmente potrebbero anche essere un partner, oppure dei figli, oppure dei fratelli, o cugini. Adesso dipende un po' dalla vostra situazione personale, cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Diciamo che è più una questione di ideologie, essendo tutte spade, piuttosto che di questioni pratiche. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni al contrario. Abbiamo un cavaliere di coppe. È un quadro di bastoni. Interessante. Devo dire che avendo il quattro di bastoni, il dieci di pentacoli e la carta della giustizia, ragazzi, per qualcuno in questo semestre si ufficializzerà un rapporto, si concretizzerà un rapporto, si solidificherà un rapporto. Tenete presente che il quattro di bastoni è sempre una carta che parla di stabilità, di unione, felice, di unione. È una carta tutte e due in realtà, e c'è anche la giustizia che parla di contratti. Tecnicamente sono carte di matrimonio. Vi manca il papa e poi vi dico che potrebbe veramente arrivare la fase successiva nella vostra relazione. Adesso andiamo a vedere se esce il papa. Allora, andiamo a vedere anche questo 5 di bastoni. Il giudizio è il contrario. Gli amanti e il 3 di spade. Ragazzi, ho come l'idea che questo 5 di bastoni vi porterà a rivalutare una certa relazione. potrebbe anche essere un certo progetto. Perché comunque c'è un 3 di spade, è qualcosa che in qualche modo crea una sorta di sofferenza. Andiamo a vedere perché c'è il 4 di pentacoli. 8 di spade, regina di spade. Ragazzi, la regina di spade potrebbe... Tenete presente che avete regina di spade, cavaliere e fante di spade. La regina di spade potrebbe rappresentare una madre, un'amicizia, una zia, per qualcuno la partner. Adesso dipende da quanti anni avete, però se siete già sopra i 40 potrebbe anche rappresentare una partner. Vi dico, è come se vi dicessero di staccarvi. O comunque, c'è una sorta di lavoro che farete sul distacco. Ma il distacco è dalle idee o che avete preso da questa persona o dalla persona in sé, perché è come se vi buttasse in un clima negativo. Perché avete comunque anche l'otto di spade. L'otto di spade è una carta che parla di qualcuno che si sente impotente nei movimenti. Però potrebbe essere l'influenza di questa regina di spade, vi dico. E quindi qui è un po' come se doveste praticare. Non dico che vi dobbiate staccare dalla persona in sé, però dal modo in cui la persona ha di vedere le cose, perché vi sta influenzando in modo negativo. Quando c'è l'otto di spade è un circolo vizioso, cioè è uno di quei mulinelli che vi porta giù. Invece di essere un circolo virtuoso, è un circolo vizioso. Cioè è un modo di vedere le cose dal punto di vista negativo. Più vedete negativo e più ci sono problemi. Più ci sono problemi e più vedete negativo. E si va avanti così, ci si butta giù un po'. È una carta che denota una persona che vede più nero di quello che è, che si sente impotente nel muoversi. Abbiamo un 6 di bastoni e un 9 di pentacoli. Ragazzi, ho la sensazione, perché potrebbe esserci anche un'altra chiave di lettura, dove la regina di spade non è una persona in sé, ma è un'attitudine che dovete acquisire. La regina di spade è normalmente una persona che fa, innanzitutto, alla spada, come la giustizia, e quindi taglia quello che non serve più. E può anche essere che avete bisogno di tagliare comunque questo tipo di atteggiamento negativo. del tipo che sono in questa posizione, non mi posso spostare, non posso fare movimenti diversi, ho questo tipo di discussioni, non so come fare ad uscire da queste discussioni, ma qui è mettere le regole fondamentalmente, staccarsi da quello che probabilmente avete imparato fino ad adesso, o staccarvi da qualche tipo di comodità, da qualche tipo di realtà o di idea. in realtà è un 4 di pentacoli, quindi parla proprio di materialità, di qualche cosa di concreto. Una volta che c'è questa sorta di prendere le distanze, è come se riusciste a fare meglio i vostri piano, organizzarvi meglio, perché poi guardate, c'è un 6 di bastoni e un 9 di pentacoli, sono due carte di successo, di amor proprio, di riuscita, di ricchezza, di appagamento, di riconoscimenti. Come se dovessero cambiare delle regole. Tenete presente che c'è la giustizia, e quindi se state aspettando qualche firma a livello burocratico, magari per la compravendita di una casa, piuttosto che, arriva nel prossimo semestre. Qui abbiamo due carte che rappresentano fortemente la casa. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Oh, un altro 10 di pentacoli al contrario. E un asso di coppia. Dunque ragazzi, se siete in coppia, come già vi ho anticipato, è come se ci fosse un andare verso una stabilità maggiore. Per qualcuno si tratta di entrare nella famiglia dell'altra persona. Vi dico che le cose potrebbero non essere così semplici a livello empatico. Perché comunque ho due 10 di denari e l'asso di coppia è girato al contrario, quindi ho come la sensazione che potrebbe esserci bisogno di un po' di tempo per entrare in sintonia con questo gruppo, con queste persone, ma ci si riesce. Ok? Perché comunque avete questo bellissimo 10 di pentacoli alla fine della linea. Se siete single, io vi dico che ci potrebbe anche essere qualcuno che vi solletica. Credo che però sia una persona non dico distante, ma come se non si desse la possibilità di. è come se non si reputasse diciamo all'altezza della situazione o all'altezza del momento. Vi dico, c'è una questione di amor proprio da lavorare anche per quello che riguarda voi, non solo da parte di questa persona. Però è un po' come se fossero tutti e due nella loro nicchia. Per poco amor proprio, vi dico. non è una persona che conoscete già, secondo me è una persona nuova, anche se vi dico che è una persona che fa fatica a farsi avanti, probabilmente può essere timida. Per quello che riguarda le relazioni familiari, vi dico, potrebbe esserci qualche questione con dei fratelli, con dei cugini da dover diciamo gestire. Se si tratta di qualche questione legata all'eredità, state tranquilli perché si risolverà tutto per il meglio. Il consiglio forse che vi danno le carte è che più di scontrarvi con gli altri, abbracciate il perché c'è la carta degli amanti, abbracciate l'opinione di tutti, cercate non tanto di capire chi ha ragione perché quelle sono le lotte egoiche e non servono a niente, non serve a niente capire chi ha ragione perché non vi dà la soluzione fondamentalmente. Quindi più che capire chi ha ragione, partite dal presupposto che tutti un po' hanno ragione, cercate di trovare una via comune che possa fare contenti tutti quanti. devo dire che ho la sensazione che qualcuno si aspetti un movimento da parte del partner, un movimento che porti appunto a ufficializzare, a concretizzare, che porti mi verrebbe da dire alla luce, alla luce del sole, la relazione. Però io qui ho la sensazione che abbiate prima bisogno di curare un vostro modo di vedere le cose e poi di dare anche voi le regole all'interno di questa relazione. Cioè fino ad adesso è stato così, me lo sono fatto andare bene perché ci tengo a te, però io non sto più bene in questa situazione. Quindi da adesso in avanti per me o si migliora o non ha più senso frequentarsi perché è X tempo che ci vediamo sempre con questa dinamica e io non sto più bene, non mi basta più, voglio qualche cosa di più. Ti sta bene? Sei con me o senza di me? È un po' come non dico un ultimatum, però è un far capire all'altro che c'è bisogno di un passo in più, c'è bisogno di qualche cosa in più insomma. Appunto, la giustizia taglia quello che non serve per rimettere in... equilibrio i piatti della bilancia e normalmente i piatti della bilancia rappresentano la mente e il cuore. È un po' come dire ok, la mente dice che sto bene con questa persona, ho paura di perderla, mi ci attacco e quindi per evitare di perderla accetto certi tipi di comportamento. Mentre il cuore invece vi dice sì ma io così però non sto bene, non sono felice, sto soffrendo, quindi per me non è più indicata questo tipo di dinamica. Poi, se la dinamica cambia ragazzi, ben venga. Però l'importante appunto è comunicare, mettere, giocare a carte scoperte mi vorrebbe da dire, cioè dire proprio chiaramente l'altra persona io ho bisogno di più, ho bisogno di avere di più da una relazione. Cosa facciamo? Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo. Carta numero 8, wow, e parla proprio di questioni familiari. E questa carta però, allora, la giustizia parla anche di giustizia divina e me lo fa venire in mente perché qui c'è scritto che avete il supporto divino. E parla anche di alleati, parla di... Io come supporto divino, vedendo che comunque è una carta che parla anche di famiglia, ho la sensazione che parli dei vostri avi, di anime che vi sono vicine per supportarvi in questo tipo di percorso, in questo tipo di processo. E considerato che ci reincarniamo in famiglie di anime, cioè tendenzialmente reincarniamo sempre con le stesse anime, non sempre con tutte, ma con una parte di loro, perché abbiamo un percorso comune da elaborare, da imparare, o come la sensazione che ci siano veramente tante persone che abbiano fatto parte della vostra famiglia e che siano lì per sostenervi in questo momento di passaggio, in questo momento di presa di posizione, mi verrebbe da dire. O di cambio, perché comunque la giustizia taglia per ritrovare l'equilibrio, ok? Andiamo a vedere ancora una meditazione. C'è sempre qualcosa di nuovo e di emozionante da imparare e da fare. Vivi in stato di attesa, mantenendoti in tal modo pronto e giovane. Quando la mente invecchia e impigrisce, la vita perde vivacità e mordente. Mantieni sveglia la mente e non potrai invecchiare. La fontana della giovinezza è nella tua coscienza e la gioia di vivere è l'elisir della vita. Wow! La gioia, ragazzi, è l'emozione dei meridiani di fuoco del cuore. È un po' come se vi dicessero di nutrire il cuore qui. Ma non tanto qui avete ben tre cavalieri, non tanto con amore, con attenzioni, con sesso, ma è proprio una questione di amor proprio. Cioè, fino a dove accetto, fino a dove no. È come dire, ok, cioè, non merito questo, sono una persona che merita di più riconoscerlo e darsi il giusto spazio. Dire, non accetto niente di quello che arriva che sia meno di quello che io mi merito. Cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Io comunque spero che la lettura vi sia stata utile per navigare meglio il prossimo periodo. Se sì, potete farmelo sapere con un like, con un'iscrizione, con una condivisione, con un commento. Se poi volete sostenere attivamente il canale, potete anche fare una donazione o abbonarvi. Per quello che riguarda gli abbonamenti, ci sono due fasce di prezzo, la prima che è quella più bassa è semplicemente un sostegno al canale, mentre la seconda fascia di prezzo che è quella più alta vi dà accesso ai video di crescita spirituale. Come già ho accennato negli approfondimenti semestrali della crescita spirituale, io sto proponendo un percorso individuale basato sulle credenze limitanti e per farvi capire meglio il percorso individuale è una parte che viene fatta appunto individualmente di tutto quello che spiego che andrò a spiegare perché ci vuole il suo tempo nella sezione degli abbonamenti, ok? Quindi trovate comunque un video sotto nella descrizione che vi spiega. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro uno secondo semestre ricco e pieno d'amore, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!